Ovviamente l'appoggio perfetto, uguale, è una merda uguale, quindi questo te l'aspettavi? Io purtroppo lo sapevo che sarebbe sto una merda. Questa è la ciappa, non questa, questa è la ciappa. Ci mette il corpo io perché voglio in mano. Uguale, perché legamo in una posizione a te? Ah, perché non abbiamo parlato di incassi del corpo. E chiama perdo. Mirko, lo sentirei? Grazie. 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 Non sculettare per piacere, non sculettare vai soltanto in alto senza sculettare. Mi sono piattato. Perché sei uno sculettatore. No, Gianlu. Io da un giocatore come Gianluca mi attento molto più anche su quell'appoggio di merda. L'hai presa troppo in alto Mirko, sono self prendere qua sopra. prendi dai un basso cioè prendi un basso c'è proprio due notti a me piace l'alba ho capito e poi spingiamo ragazzi guarda devi sbrazzare devi dire anche qua eeeh è tutto giusto puoi fare e il quad eeeh 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 a me eeeh a me a me Grazie. 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 No! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti